Demetos Demir si prenderà una pausa dalla recitazione? La famosa attrice Demetos Demir ha avuto un intenso programma di lavoro per molto tempo. L'attrice ha lavorato sia in serie tv che in spot pubblicitari. Inoltre, l'attrice ha partecipato a varie trasmissioni come servizi per riviste o programmi speciali. Demetos Demir, che ha lavorato intensamente di recente, si è preso una breve vacanza. Ora è di nuovo tempo di affari. Sono iniziate le prove del film intitolato Love Tactics. Demetos Demir torna al ruolo di commedia romantica con il film che uscirà su Netflix. Allora, l'attrice ha in mente un nuovo progetto di serie tv? Demet ha lasciato la porta aperta a questo proposito. Tuttavia, l'attrice ha la condizione che la sceneggiatura e il ruolo siano molto impressionanti. Demetos Demir ha detto che ci sono progetti che le vengono in mente, ma non leggerà fino alla fine delle riprese e non vuole confonderla. Demetos Demir ha rilasciato la seguente dichiarazione nella sua intervista con i membri della stampa. Ci sono alcuni progetti. Ma non sarebbe giusto per me leggerlo in questo momento. Non voglio affatto confondermi. Voglio prenditi una bella pausa dopo che il lavoro è finito. Demetos Demir sottolinea che la cosa che la interessa di più è la sceneggiatura. Se l'attrice accetterà un nuovo progetto di serie, anche la sceneggiatura e il ruolo proposto devono essere molto buoni. Demet vuole riposare al termine delle riprese. L'attrice, che non vuole darsi subito un nuovo lavoro, potrebbe cambiare idea se si presentasse uno scenario molto buono. Demet dice, Ecco perché non ho posto alcuna restrizione sulla data del mio tornare sullo schermo. Spero che sia un personaggio che piacerà al pubblico e di cui sarò contento. Emerga una serie. A Demetos Demir è stato anche chiesto di prendere parte a un progetto con il suo amante Oc Zankok. L'attrice ha spiegato che a questo punto cantare l'avrebbe costretta, ma che potrebbero lavorare insieme in una serie tv o in un film. Demet ha dato la seguente risposta a questa domanda. Non sono davvero bravo a cantare. Sono apparso in Osses Turchiai. Ho cantato nella promozione della serie. Questi sono abbastanza per me. Non cerco di fare qualcosa di perfetto perché è intrattenimento. Non c'è canzone con Oc Zan. Demetos Demir, che ha realizzato quanto fosse talentuosa durante le sue conversazioni con il suo amante Oc Zankok, ha spiegato che il suo amante ha scritto parole molto belle. Demet ha dichiarato. Ha un'ottima penna. Posso dirlo grazie alle nostre conversazioni. Non voglio dire che non giocherò perché ha molto successo. Sono sicuro che imparerò molto da lui. Spero che le nostre strade si incrocino anche su questo argomento. Grazie a tutti.